Questa è la strada via Roma, crateri per terra, guardate la pista ciclattile, sassi, freccia, uno schifo totale, tutto questo ogni volta che fa un po' di pioggia, perché i lavori di asfaltamento sono fatti sempre solo con rappezzi e non fatti come si deve, guardate che crateri, è tutto così.